30 secondi 5, 4, 3, 2, 1, attaccanti dei navi 5, 4, 3, 2, 1, attaccanti dei navi 5, 4, 1, attaccanti dei navi 5, 4, 1, attaccanti dei navi Ti ho nel mirino. Zarya, agli ordini! E' il giorno ideale per un po' di caos! Questo ti aiuterà! Questa vi piacerà! Che bellezza! Questa bomba è per voi! Pure potenziale! La mia fortuna! Sì Sì Fermatemi se la mette già! Ti ho merito È questo Un po' di spazio A Gomba in tuta Sì Sì Fate coraggio Con 60 secondi Questo ti aiuterà Che bellezza Pure migliorate Non muove Mezzogiorno di fuoco Mezzogiorno di fuoco Mezzogiorno si trasforma in me Abbiamo usato la fina caricato Non muovere un muscolo Questa bomba è per voi Fate coraggio Ho localizzato il nemico Così va meglio Sopra un lato Sopra un lato Toglietemi tutto Ma non la mia vita Tio nel mirino Questa la la Questa bomba è per voi Mezzogiorno di fuoco Mezzogiorno di fuoco Rieccomi Non mi ferma nessuno Questo aiuterà Questo è un buon punto A dopo A dopo A un risato di buon punto Questa non piacereà Non vi libererete di me facilmente Mezzogiorno di fuoco Il carico sta per giungere a destinazione Non vi libererete di me facilmente Bomba in buca Un punto Non vi libero Sulla pista Misore tattico Ativato non è rimettermi fermatemi se l'avete già sentita non è rimettermi non è rimettermi non è rimettermi non è rimettermi scatena la tua forza interiore è bello sentirsi apprezzati